Buonasera a tutti, oggi è giovedì, non ricordo il numero, credo che sia il 28 settembre. Siamo qui con Silvia Evangelisti, critica d'arte contemporanea, che ci parlerà dell'inizio, della nascita del design industriale contemporaneo, che ha molto a che fare con l'Italia, perché è una storia italiana. Ma prima di sentire Silvia e di far finta di presentarvela, voglio ringraziare Marina Forni, presidente del FAI di Bologna e dell'Emilia Romagna, giusto? Ho detto bene. E tutti i componenti del FAI che sono venuti qua. Questo perché dopo che venerdì scorso abbiamo fatto la conferenza stampa, lanciando l'appello che è stato capito e ripreso dalla stampa cittadina in un modo incommiabile, direi, adesso, adesso l'abbiamo detto, dobbiamo arrivarci in fondo. Quindi questo è un altro momento in cui abbiamo, innanzitutto, siamo qui, in questo luogo che io oggi ho detto, ho fatto una piccola intervista nel Tuno TV, nel TG, così, giusto? E ho detto che è un patrimonio italiano, volevo dire dell'umanità, ma non volevo esagerare, però, perché io in questi giorni che sono stata qua, ho visto entrare tante persone, molti stranieri, stamattina sono venuti due architetti spagnoli, giovanissimi, avranno avuto al massimo 35 anni, che erano emozionati, parlavano benissimo l'italiano, se no non ci saremmo capiti, e loro mi hanno detto che tutti gli anni vengono al Cersaie, e non erano mai, siccome sono degli studiosi di scarpa, non erano mai riusciti a vedere il negozio. E stamattina sono stati dentro un'ora, hanno guardato tutti i particolari, mi hanno lasciato i loro recapiti, dei vari social, le mail, eccetera, perché vogliono essere tenuti al corrente di quello che noi faremo. Poi, martedì, è entrata una signora, dice, dov'è che si fa la raccolta fondi? Ho detto, guardi, non è ancora partita, in ogni caso, le ho detto, sicuramente il FAI e altri personaggi bolognesi faranno in modo di... E poi tante persone, appunto, stranieri, architetti italiani, che vengono per i Cersaie e vengono qua, e molti bolognesi, persone che dicono finalmente, perché hanno visto prima tutti quei giocattoli, per carità, bellissimi, però la fontana era coperta, non si vede più niente. Poi c'erano le ragnatele sulla vetrina, adesso finalmente l'abbiamo pulito, l'abbiamo illuminato, dobbiamo solo trovare qualcuno che lo compri, che non è facile subito. Infatti anche io pensavo all'accordata, quindi auspico che possiamo fare in modo che la notizia esca in nazionale, e già ci sono tutta una serie di presupposti sui quali bisogna però lavorare, perché a questo punto non ci possiamo più tirare indietro. Quindi bisogna arrivare in fondo. Adesso, Silvio, che fa tutto questo bel bagaglio iniziale, ti passo la parola per la tua bellissima lezione. Grazie mille. Non è una lezione, è una chiacchierata. Io non sono un'esperta di design, io ho design, come si dice all'anglosassone, noi siamo oramai tutti di matrice anglosassone. È una chiacchierata su alcune cose, alcuni temi del design, in particolare di una cosa che mi ha sempre incuriosito, non essendo un esperto di design, certamente gli architetti e gli esperti lo sanno bene, c'è intanto la differenza fra design e design industriale, che è una cosa che sembra banalissima, ma anche tanto banale in fondo poi non è. Noi viviamo circondati da oggetti di ogni tipo e genere, ci sediamo su panchetti, giriamo su automobili, scriviamo con delle penne, usiamo dei computer, ci sediamo a dei tavoli, mangiamo con delle posate, con dei bicchieri, con dei piatti, e sono oggetti della nostra quotidianità, che non consideriamo in modo particolare, ma nel momento in cui isoliamo quegli oggetti, si vede che quegli oggetti a volte sono bellissimi, e svolgono la loro perfetta funzione di forchette o di bicchieri o di sedia, ma c'è un valore aggiunto, e non è solo un rivestimento, è proprio qualcosa di più profondo. Il design non è solo un vestito estetico a un oggetto d'uso, è qualcosa di diverso, è qualcosa di pensato e progettato per una funzionalità precisa, ma pensato per chi lo userà, quindi per l'utilità che avrà, quindi la comodità di uso, la funzionalità particolare, per l'ambiente in cui sarà collocato, per la cultura dominante in cui si inserisce, quindi è un oggetto che ha una caratteristica particolare, in più deve avere un elemento fondamentale, che è quello della sua possibilità di riproduzione in serie. E questo è il design industriale, il design è la creazione, la progettazione di un oggetto, il design industriale è la progettazione di un oggetto che sia riproducibile industrialmente e quindi deve avere anche delle caratteristiche particolari, non può essere esageratamente, e deve avere anche un costo non eccessivo rispetto all'uso, rispetto alla sua funzionalità. e quindi questo legame stretto con l'industria ha fatto sì in realtà che inizialmente il design non fosse una... Adesso vedo degli amici che mi imbarazzano enormemente, che saluto, ma che per accidentaccio. Tappatevi le orecchie. Ascoltate quello che dico, che dico delle cose, già c'è la felice Francesco, vabbè, due esperti straordinari. Dicevo, a me ha sempre incuriosito il fatto, tanto il design nasce non in Italia, nasce essenzialmente, si potrebbe dire, adesso senza dare delle indicazioni precise, nasce magari con Art & Craft in Inghilterra, alla metà dell'Ottocento, alla seconda metà dell'Ottocento, poi si sviluppa in vari modi, col Bauhaus in varie situazioni, ma si sviluppa sempre, appunto, vicino a una situazione industriale. Ora, la cosa che mi ha incuriosito da profana era vedere che il design italiano era diventato a un certo punto leader nel mondo, insieme a quello svedese, anche rispetto a paesi come gli Stati Uniti che avevano industrie, denaro, possibilità di ogni tipo. In Italia era in ritardo da un punto di vista dello sviluppo industriale l'Italia negli anni immediatamente dopo la guerra, anzi, erano anni della ricostruzione, erano anni di difficoltà. L'Italia poi, nel bene e nel male, la guerra l'aveva persa, adesso poi i passaggi sono vari, ma insomma, comunque, era stata una guerra devastante. E invece, tutte le volte che guardavo qualche oggetto straordinario, la prima volta mi venne al MoMA quando vedi che tre quarti degli oggetti che erano esposti nella sezione design del MoMA, la prima volta che sono andata, erano italiani. Ho detto, ma guarda che curioso, tutti italiani, e non c'era in realtà, la cosa altrettanto particolare, era che, per cui si intitola una storia italiana in questo senso, non c'era una scuola specifica di design italiana, ma c'erano delle straordinarie individualità, delle personalità di rara creatività che in modo libero e rispetto al resto dell'Occidente, perché noi stiamo parlando di un periodo in cui in realtà la cultura e l'arte, noi la consideravamo, non c'era mai la parola occidentale, oggi dobbiamo dirla, perché abbiamo tutto un cote che si è aggiunto, ma allora era solo occidentale, era Europa, America, Riga, Giappone, perché il Giappone aveva fatto delle incursioni, ma nessuno sapeva cosa succedeva nell'arte in India, in Cina o in Thailandia, non erano paesi che fossero interni a questo. E, dicevo, non c'erano delle scuole, non c'erano tutte quelle strutture che invece, non c'era neanche stato un Bauhaus, che è stato fondamentale per tutta l'esperienza che poi cadde con la Seconda Guerra Mondiale, naturalmente, anche perché non era simpatico a Hitler né il Bauhaus, né i docenti che erano metà ebrei, e le altre metà erano all'avanguardia, quindi non adatti alle sue idee di purezza ariana. e in Italia, invece, nel dopoguerra, in un periodo così poco favorevole per certi aspetti, ma così poco ricco, perché c'era da ricostruire un paese, c'era da rimettere insieme tutto, ma da ricostruire anche le case, invece nascono, attraverso appunto la creatività, l'inventiva e la libertà di alcune personalità, certamente straordinarie, degli oggetti e delle forme che poi diventano famose nel mondo. E questo avviene appunto senza un'industria, ecco, questa è una particolarità italiana, perché ad esempio in Svezia, che è l'altro caso, diciamo, analogo a quello europeo e all'America, non è riuscita ad esprimere in questo senso nulla di significativo in questo periodo, pur mantenendoci, noi le cose le facevamo con i soldi che ci dava il piano Marshall, però loro non avevano... Ecco, la cosa che mi ha interessato è che questi progetti che venivano fatti erano fatti sì per una produzione o per una industria o per una azienda, ma non avevano mai una finalità commerciale. Cioè oggi l'industrial design è una commissione che viene data e il designer deve tenere conto di elementi, non solo degli elementi di funzionalità, di costi, di piacevolezza estetica, di uso, ma deve tenere conto anche del fatto che deve essere prodotto in serie. Questi designer, invece i nostri, questi italiani, non avevano presente questo, lo facevano naturalmente, per un'idea estremamente originale e creativa. Adesso vedremo delle cose particolari. Io ho qui le cose perché se no non mi ricordo le date. Adesso ve lo dico. Questa è del 46. No, è del... Sì, questa qui è del... No, sì, è del 46. E questa è la famosa Vespa Faro Basso. La Vespa Faro Basso è del 1946 ed è un... A parte la linea che voi vedete è praticamente quella di oggi con tutte le cambiamenti che ci possono essere stati in 70 anni, però è quella di oggi. Ma che cosa proponeva questa? In un paese privo di denaro e quindi che non poteva fondare sull'automobile era troppo costosa per la società italiana, proponeva un mezzo di trasporto, lo scooter, questo è uno dei primi esempi in assoluti, con cui anche una famigliola, voi l'avete vista, abbiamo visto tutti centomila volte il bambino in piedi, davanti, in cui anche una famigliola poteva spostarsi senza usare solo la bicicletta che era tutto sommato. Quindi economico, quindi rivolto a un pubblico non ricco, ma però che aveva voglia di muoversi, di vivere, di passare una domenica al mare, una domenica in campagna, di avere... e questo oggetto che è di Costantino d'Ascanio, che è disegnato a Costantino d'Ascanio, che era però un elicotterista, per dire come venivano fuori queste cose, nasce nel 1946 e nel 1946 mentre la... scusate, faccio vedere anche questa, perché giusto, la Lambretta, la Lambretta viene disegnata da Cesare Pallavicino e da Pierluigi Torre e dell'anno successivo. Quindi la Piaggio mette in campo questi due che hanno cambiato il modo di vivere. Cioè il design, il grande design è questo, si inventa delle cose che cambiano il modo di vivere delle persone e questo è il grande design. Nel 1946, dicevo, si tiene la prima... nel 1946, voi capite, la guerra finisce in 45, in aprile 45, siamo lì. Però già nel 1946 a Milano si tiene questa mostra, Rima, che adesso vi dico come si scioglie, riunione italiana per le mostre di arredamento, se no non me lo ricordavo mai, dove vengono invitati dei giovani architetti a presentare dei progetti di arredamento e di sistemazione, di mobili e di sistemazione di spazi piccoli e poveri, non so come dire, non di progettare grandi ville, ma unità abitative per la gente, possibili per tutti, tra i vari architetti, il gruppo lì si presenta insieme, non per la prima volta, perché era un gruppo che era nato negli anni 30, perché sono tutti nati, sono quattro architetti, quattro grandi architetti, quattro design, sono tutti nati nel 1908 e nel 1910, il BBPR che sono Banfi Belgioioso per i Suti Rogers, Ernesto Rogers è il padre di Richard Roberts che poi negli anni 70 invece insieme a Renzo Piano progettò, vinse il concorso per progettare il Centre Pompidou, il Bubur ed è figlio appunto di Ernesto Rogers. Un gruppo di giovani architetti che presentano delle soluzioni abitative e insieme a questi ci sono altri architetti come Mucchi, come Vico Magistretti e sono tutti presentati a Milano in questa, la ragione per cui Milano è la capitale del design è anche questa, perché è uscita lo scoperto, ora voglio dire, ci sarebbe da dire nel 1946 la gente altro aveva che pensare che ai mobili dei design o agli architetti e invece questo fanno e da questo momento da questo anno cioè dal 1946 47 nasce quello che poi viene chiamato genericamente l'Italian Style cioè nasce quel tipo di design che è solo italiano e che diventerà leader nel mondo per tutto dalle automobili all'arredamento alle poltrone sedie ai tralicci metallici ad esempio l'Edison aveva commissionato dei tralicci metallici per il trasporto dell'energia che erano degli oggetti straordinari di design cioè è in qualche modo come se l'Italia ritrovasse la propria identità dopo lo sfacere del disastro della guerra in una idea di bellezza che era totalmente rinnovata rispetto a quella neoclassica rispetto a quella classica era un'idea di bellezza che serviva per vivere meglio e quando tante quando voi parlate con gli sarnieri dicono sempre ah perché il bel vivere che c'è in Italia non c'è da nessuna parte è stato cercato è stato costruito è stato qualcosa di molto sentito lo star bene è anche stare su una poltrona comoda che ha una linea bella che tutte le volte che la guardi e la guardiamo oggi dopo 60 anni è ancora bella come allora e quindi non è un vestito estetico ma è dentro all'oggetto e nasce la Biennale nasce la Triennale di Milano e nel 1954 la Rinascente lancia un concorso un concorso che prende il nome di Compasso d'Oro a questo concorso nel 1900 che è data nel 1954 che era la decima edizione perché tutti questi numeri io un po' mi confondo ho anche bevuto un bicchiere di vino alla decima edizione della Triennale di Milano che è il fulcro di questa ricerca viene lanciato questo concorso del Compasso d'Oro a cui partecipano moltissimi designer e architetti e dove vengono dove emergono e vincendo anche dei premi due personaggi molto particolari io ho scelto delle cose un po' curiose uno un premio è la scimmietta Zizi del 1954 appunto disegnata da Bruno Munari che si muove in tutti i modi era una Bruno Munari che poi non era stato apprezzato no mai mai stato apprezzato adesso appena è più all'estero che qua è più all'estero che qua me chiedono delle gallerie straniere mi chiedono ma non si trovano delle opere di Munari e quindi Bruno Munari creativo vero che disegna che progetta che guarda questo qui l'avete avuto in casa tutti secondo me il cubo è del 1958 oggi è perfetto in qualsiasi arredamento in qualsiasi casa ed è una parte della nostra quotidianità e insieme a Munari vince un premio anche un altro straordinario personaggio che è Marcello Nizzoli con varie cose ma in particolare con la lettera 22 dell'Olivetti che è una rivoluzione la lettera 22 dell'Olivetti è una rivoluzione l'Olivetti era un'azienda che insomma che produceva doveva vendere ma la genialità adesso poi qui noi siamo ecco noi siamo dentro a questo spazio straordinario di Carlo Scarpa non è un caso che Adriano Olivetti avesse affidato il suo negozio la progettazione nel suo negozio più importante in piazza San Marco a Venezia quindi proprio alla vetrina sul mondo l'avesse affidata a Carlo Scarpa e Carlo Scarpa sono gli unici due spazi tra virgolette commerciali che commerciali non sono perché sono tutto perché commerciali che Carlo Scarpa ha progettato nella sua vita per Dino Gavina e per Adriano Olivetti quindi per due personaggi che hanno cambiato la storia ognuno nel proprio ambito e nel proprio spazio e quindi Nizzoli con la Olivetti e poi negli anni 50 arriva il grande gli anni 50 sono il momento tra gli anni 50 gli anni 60 il design italiano proprio non vede nessuno neanche se fa così proprio perché sono tutti distanti chilometri e ci sono in particolare alcune personalità tra cui i due fratelli Castiglione Achille e Piergiacomo Castiglione che hanno per Dino Gavina hanno progettato uno dei pochissimi progetti architettonici che è il negozio a San Lazzaro quello Simon Gavina Dino Gavina incontra e conosce i fratelli Castiglione così come anche Carlo Scarpa così come Luigi Caccia Dominioni che un cui poi lavorò così come non me ne vengono in mente altri in questo momento ma li conosce alla triennale alla decima triennale quella del 54 di cui appunto abbiamo visto prima i vincitori abbiamo visto la lettera 22 rappresentata la lettera 22 dell'Olivetti e Zizi nella scimietta Zizi di Munari attraverso un suo amico del cuore che era Lucio Fontana Lucio Fontana va alla triennale con Dino Gavina e gli presenta alcuni suoi amici adesso sembra ridicolo dire Lucio Fontana che dice Castiglioni che dice Carlo Scarpa tutti lì così come siamo noi oggi in realtà e qui nascono delle sinergie assolutamente straordinarie che hanno portato alla realizzazione di alcuni dei pezzi più importanti della storia del design del novecento della seconda metà del novecento quindi poi nasce l'associazione del disegno italiano l'Aidi nasce a Milano si monta fortemente questa passione per il design nasce all'undicesima triennale che quindi nel 57 tre anni dopo ne viene allestita una mostra internazionale dell'industrial design che è una delle prime mostre sull'industrial design cioè su questa concezione del 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 design di produzione ed è un e qui già l'Italia comincia ad emergere e già dall'anno dopo questa è una lampada famosissima che appunto molti che sono ancora in produzione queste opere adesso a parte la Lambretta e la Vespa che hanno avuto però queste opere sono ancora in produzione sono ancora in produzione dopo 60 anni quasi nulla e costano no dopo 50 anni non lo sono più tanto che li trovi su internet li trovi anche non questa qui era per la Floss le trovi anche non della Floss le puoi trovare perché dopo 50 anni scadono i brevetti quindi disegna questa guardate no ma adesso per dire perché non è così semplice un progetto di un oggetto di design uno dice vabbè ha fatto uno schizzo ha disegnato una lampada no è il frutto di un pensiero creativo ma che deve tenere conto di elementi tecnici è il frutto di un'inventiva che deve essere applicata quindi non può così camparsi e questo è uno dei disegni di Castiglione per traccia e l'intento quello che quando dicevo prima che traccia eh ah taccia io ho scritto ma perché quello corregge voi lo sapete che il computer corregge sempre si chiama taccia però lui quando ha scritto taccia sopra ha corretto e ha messo traccia e io lo odio questa cosa mi corregge qualsiasi cosa perché taccia lui non gli tornava vabbè no infatti è la taccia è lei mi ha corretto questo scema anche per l'ho fatto un pochino in fretta in verità il powerpoint l'ho fatto velocemente per far vedere qualche immagine dicevo che il 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 concetto di questa lampada non è quello di fare una lampada è una lampada da scrivania questa e ha quello che voleva ottenere volevano ottenere Achille e Pier Giacomo Castiglioni era di realizzare una lampada che non che non avesse il gli inconvenienti che hanno tutte le lampade da tavolino tutte le lampade da scrivania cioè che in una certa posizione ti sparano negli occhi o fanno una luce bassa e tu sei immerso nel nulla nel buio oppure ti sparano negli occhi questa era fatta per non avere quel riflesso negli occhi quindi era era studiata con una finalità precisa non facciamo una bella lampada da scrivania ma proprio con un'idea molto precisa che non ci fosse troppo scarto tra luce e ombra e che non ci fosse nessun problema di di abbaglio ecco i fratelli Castiglione sono a parte che sono diventano intimi amici di di Dino Gavine per lui lavorano tanto ma sono hanno hanno realizzato straordinarie opere adesso vado a vedere questa la abbiamo già vista ecco questo ad esempio è lo sgabello mezzadro per mazzotta beh pensa te per zanotta è nel 1957 guardate ma pensate è uno che gli viene in mente di fare quella cosa lì io lo trovo no adesso è ben strampalata lo trovo straordinario e anche di un coraggio comodissimo e lo continuano a produrre lo compri anche adesso se tu vai in sito di zanotta c'è di tutti i colori lo ordini come ti pare ed è una una cosa che trovi tranquillamente così come famosissima questa è la poltrona San Luca per frau San Luca deve essere il nome che Castiglione gli è venuto in mente stando con Gavina girando a Bologna e beh per Bologna con Gavina quando perché quando progettano lo spazio è una poltrona frau tra le più classiche tra le più conosciute ed è del 1960 e poi in questi anni sempre negli anni 58 59 60 che sono anni d'oro 61 per il design italiano il figlio di Carlo Scarpa Tobia Scarpa si dedica anche lui con la moglie prima a realizzare dei vetri a creare delle forme per dei vetri di Murano e poi per un arredamento che riprendeva straordinariamente il pensiero formale del padre questa di Vico Magistretti me l'ero dimenticata che anche questa è una sedia comodissima e ancora in produzione io ho scelto apposta delle cose che dopo 60 anni 70 anni sono ancora in produzione e che ancora noi usiamo e che ancora quando vediamo diciamo ma che bella la sedia di Vico come la poltrona di Le Corbusier lì dietro no di Broier quella dietro lì no quelle di Le Corbusier perché si assomigliano a quella di Broier di pelle o di tela quelle di Le Corbusier e di Cavallino o il tavolo di Sarinen che è davanti quando si entra sono oggetti che continuano a far parte della nostra vita e che ancora ci dicono cioè non so come dire ci portano emozione ma ecco questo è il famosissimo Bastiano Bastiano del 1960 che Tobias Carpa progetta per Gavina per Dino e Gavina di Bastiano credo che Gavina ne abbia vendute delle tonnellate perché era un divano è stato uno dei primi divani moderni divano è un oggetto ben difficile cioè non voglio dire non è mica tanto facile e appunto il Bastiano nel 1960 mentre Carlo Scarpa sempre per Dino e Gavina no questo è ancora di Tobia Scarpa il famoso letto di di metallo di Vanessa il famoso Vanessa che tutti conoscono e che tutti sanno che cos'è e poi c'è un'altra cosa altrettanto famoso il tavolo Doge che è uno dei capolavori di design di Carlo Scarpa che era più architetto che design Tobia è più designer Carlo era più ecco in questi anni gli anni 60 vroom si apre il design italiano e io ho preso alcuni esempi perché poi non volevo annoiarvi troppo ho preso alcuni esempi ad esempio la libreria Grifo di Enzo Mari che è proprio fatta per Dino Gavina ed è componibile ed è del 1966 e comincia ad usare come alcune delle opere che adesso vediamo nuovi materiali che sono arrivati nel nel dopoguerra che prima non c'erano uno è ad esempio il pluriretano espanso che già nasce nel 1941 per uso di imbottitura di queste cose ma poi viene usato per costruire i mobili e quindi questa libreria la Grifo non è di legno è di una specie di materiale plastico adesso che sia il pluriretano o no espanso per l'imbottitura ma invece rigido serviva per queste cose e questa è del 1966 vediamo ancora ecco poi ve lo sareste aspettato voi che uno dei primi il primo diciamo computer anche se un po' rudimentale anche della Olivetti Elea era stato disegnato da Ettore Sozzas nel 1959 curioso perché l'Olivetti è rimasta il nome di Adriano Olivetti è rimasto straordinariamente famoso per una quantità di motivi questo però non è ultimo perché questo ha educato generazioni intere a non adattarsi alla funzionalità però all'oggetto malinconico e squallido anche da cucina anche da ufficio ma invece a pretendere che quell'oggetto abbia delle qualità estetiche oltre alla sua funzionalità io ho messo solo adesso sono magari un po' egocentrica le cose che io non sapevo perché voglio dire quelle che sapevo secondo me le sapete anche voi nel senso che la sto a ripetere allora ho messo soprattutto quelle che non sapevo un altro ecco questa Olivetti Programma 101 che è stato importantissimo questo oggetto dell'Olivetti che è una specie di calcolatore calcolatrice è arricchito insomma ha tenuto in vita l'Olivetti per molto tempo è stato uno dei prodotti più straordinari e più importanti che l'Olivetti abbia prodotto ed è stato disegnato ma il design di questo oggetto non è altro rispetto alla qualità dell'oggetto e alla sua importanza ed è stato appunto disegnato da Mario Bellini nel 1964 Mario Bellini è quello che ad esempio ha progettato all'interno del museo della città per dire così uno gli dà anche qualche idea e da questo dunque di questa opera di questo oggetto la che progettato poi da un ingegnere invece dell'Olivetti ingegnere per otto che ha progettato la parte tecnica comunque sono stati esportati negli Stati Uniti allora a me mi fa un baffo negli l'Italia l'Olivetti ha esportato negli Stati Uniti 40.000 esemplari in un anno solo di questo oggetto allora questo è industrial design però Bellini non ha pensato lo devo vendere ha pensato come lo come lo interpreto io questa cosa che deve essere tecnica ma deve essere anche morbida ha le linee tonde non è spigolosa deve essere accattivante nel senso che deve chiamare in qualche modo per nome chi la usa non deve essere un oggetto anonimo non deve essere da ufficio freddo ecco quindi queste sono delle eccezionalità poi per non annoiarvi alla lunga perché non si può stare posso tenervi lì nei panchetti per ore seppure panchetti di design nel 1968 alla proprio alla triennale alla quattordicesima triennale di Milano compare qualcosa di nuovo cioè questa era una strada che aveva avuto aveva straordinario successo quindi uno poteva anche continuare per quella via invece compare in una mostra che si tiene appunto alla quattordicesima triennale di Milano un nuovo concetto del design cioè quello che viene che poi Ceylant aveva chiamato radical design radical design o anti-design come poi si può chiamare e nasce nel 1968 vi dice niente questa data ecco dove si rompe cioè si deve rompere si deve uscire dagli schemi si deve trovare cioè c'è una generazione nuova che ha necessità di di un nuovo immaginario anche nella quotidianità e a questa mostra vengono a questo così come diciamo gruppo di architetti e designer tra cui Archizum tra cui Memphis di Ettore Sozzas ma anche Alchimia di Alessandro Mendini e poi Ugo La Pietra poi Gaetano Pesce cioè tutti i nomi che ancora oggi noi sentiamo come protagonisti del design internazionale ecco e nascono nel 68 quando appunto c'è una rivoluzione della società c'è una rivoluzione del pensiero c'è anche un ottimismo straordinario nel futuro si pensa che si possa cambiare il mondo la generazione del 68 ha pensato che poteva cambiare il mondo cambiare la società renderla più giusta renderla più bella non ne parliamo allora il radical design appunto l'anti design nasce nasce proprio in reazione e contro quel design che aveva così tanta fortuna avuto nel mondo intero compresi gli Stati Uniti e nasce nel segno di un recupero dell'artigianalità nel recupero della decorazione perché il design aveva insomma nella linearità la cosa maggiore quindi c'è un recupero della decorazione persino un recupero del kitsch è in questi anni che Gillo Dorfless scrive un un saggio che poi è rimasto famoso appunto sul kitsch che diventa qualcosa di non negativo come era invece precedentemente quindi questo anti design questo radical design o anti design produce oggetti molto diversi da quelli di prima se prima erano molto come dire funzionali con un segno molto sempli minimale ecco qui invece cominciano a essere pensati in modo molto più decorativo ecco questa è una famosa parete divisoria di Ettore Carlton di Ettore Sozzas nel 1981 dove un ruolo fondamentale lo giocano i colori lo giocano l'intreccio delle forme lo gioca anche questa specie di personalizzazione sembrano è come se fosse un lego un meccano un qualcosa che richiama a un senso ludico a un senso anche di leggerezza quindi un linguaggio molto più libero e molto più come dire fantastico e fantasioso però il problema che hanno in realtà il radical design è che questi oggetti che sono quasi artigianali sono prodotti in non in molti esemplari e sono costosissimi quindi è proprio un dagli anni 80 dal dopo guerra agli anni 80 c'è proprio questo passaggio questa è l'espressione di una società opulenta di una società ricca quella era l'espressione di una società dove c'era il necessario qui c'è il di più quindi l'oggetto di design deve essere quello che ti dà qualcosa in più delle librerie che tutti hanno oramai prima no adesso tutti le hanno e quindi l'anti design gioca proprio su questo linguaggio un po' più irrazionale per molti aspetti sono anche oggetti che sembra adesso non è venuta la sedia che volevo mettere infatti lo sapevo una sedia tutta sbilenca sempre di sozzas che sembra quasi inusabile poi non lo è è in realtà usabile però è fantasiosa è decorativa è espressiva anche funzionale perché anche in questa libreria voi potete mettere lì cioè ha una sua funzionalità però certamente ce ne stanno la metà di quelli che ci stanno in una billy per citare una invece minimale come la billy dell'Ikea quindi questo il radical design in realtà riprende quel rapporto tra arte e artigianato da cui il design è nato il design nasce da un rapporto tra artigianato e arte qui si torna tra arte e artigianato e queste opere molto spesso sono anche sono quasi insomma sono vendute in galleria ad esempio invece che in negozi di mobili anche in negozi di mobili però molto spesso sono proprio oggetti di culto oggetti che si possono comparare o avvicinare alla produzione dell'opera d'arte e l'ultima cosa che l'ultima così indicazione che volevo dare sempre per via delle date che ho scritto qui è un evento che segna in qualche modo il successo internazionale acquisito del design italiano dell'italian style di tutto quello che viene poi dietro a questo ed è una mostra che l'architetto argentino Emilio Ambas organizza nel 1972 al Modern Art Museum di New York la mostra si intitola Italy The New Domestic Landscape Archivism and Problems of Italian Design allora che il MoMA dedichi un'intera mostra esclusivamente all'Italia è in qualche modo la insomma è la corona dell'oro per il design italiano e da qui in qualche modo noi da questa mostra in qualche modo noi possiamo vedere non dico terminare perché il design italiano ma il periodo d'oro quel ruolo da leader assoluto e quel ruolo ineguagliato che ha avuto dal 1946 al 1968 70 il design italiano non viene più è una stagione che si chiude e il design italiano rimane un'importante importantissima esperienza creativa insieme però ad altre mentre negli anni precedenti non c'era nessuno che potesse starci vicino grazie non fatemi domande specifiche perché io non sono un'esperta sì non solo per anche per tessuti esatto ha fatto ceramica ha fatto oggetti per bagno e anche piastrelle anche decorazioni e tessuti ma tutti questi hanno fatto anche tessuti anche Bruno Munari hanno disegnato anche Gio Ponti tutti hanno proprio disegnato tessuti che poi sono entrati in produzione dopo abbiamo avuto la moda che ne parla un altro però ma figurati grazie mille